Benvenuto in questo virtual tour. Ti presento un appartamento molto particolare. Si tratta di un bilocale arredato disposto su due livelli. Ci troviamo ad Esio nella zona ospedale. L'appartamento si trova al terzo piano con ascensore ed è completo di box. Nel piano d'ingresso troviamo il soggiorno con la cucina vista e l'uscita su un terrazzino e il bagno padronale con doccia. Ingresso su zona soggiorno con postazione in televisione e scala di accesso al piano superiore oltre che uscita sul terrazzino. Cucina completa con tavolo da pranzo. Comodo terrazzino con tende solari. Disimpegno antibagno e bagno padronale con lavatrice inserita e doccia. Al piano superiore troviamo un disimpegno che conduce al bagno di servizio con vasca, camera da letto e un piccolo solarium. Disimpegno del piano superiore con accesso al bagno. Bagno di servizio con vasca, molto particolare con lucernario. Camera da letto mansardata con armadio e uscita su un caratteristico solarium. Camera da letto si è accesso a un terrazzino con vista panoramica. Per ricevere maggiori informazioni su questo immobile puoi visitare il sito www.desio.soloaffitti.it Solo affitti. Affittare con sicurezza.